Sì, devo dire che i ragazzi hanno fatto un anno veramente strepitoso e niente, secondo me proprio meritano questo passaggio alla grande. Nessuno, visto il punteggio che è elevato, che abbiamo per l'altra squadra, diciamo la seconda in classifica, è una grossa soddisfazione. Ecco, non so, la meritano proprio tutti, tutto l'ambiente della società sportiva della Gerenzanese. È arrivata questa vittoria, dico sofferta ma fino a un certo punto perché i ragazzi erano comunque tesi, sapevano che vincendo avremmo vinto il campionato. Però penso che la vittoria è meritatissima, non l'abbiamo mai subito, forse un tiro diciamo parato da Antonio, ma per il resto i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Tenendo presente che ci mancava il bomber, il ciuccio, tenendo. Però bravi ragazzi tutti.